stavolta mi sono abbronzata ora stiamo ritornando niente è fantastico qui ci stanno stabilimenti a ogni stabilimento c'è una spiaggia libera sempre stessa postazione vuoto sempre col telefono qua grazie questo è molto forte antonio fiore uccio fiore l'applauso forte per questi nostri campioni del passato e del presente buonissima ciao ragazzi buongiorno come si è fantastico eccoci siamo arrivati a torre san giovanni che bello è bellissimo wow siamo appena arrivati e devo dire è appiccicoso adesso il clima però non male cioè guardate che colori fantastico che ci sono cioè bellissimo chiara che ne pensi bellissimo ecco quella sono io quando studio troppo ciao ragazzi buongiorno oggi anche siamo a baglia verde però ci siamo spostati in un posto più isolato e appunto c'è in questi posticini c'entra comunque una famiglia mettere gli asciugamani l'ombrellone poi vado dall'altra parte ci sanno altri spazi quindi è molto più carino e c'è della privacy non ci resta che farci il bagno quindi 3 2 1 eccomi ragazzi sono ritornata a casa mi ha approfittato che ho fatto la doccia con i capelli e adesso sto molto molto meglio gallipoli mi sta piacendo tantissimo però ecco mi aspettavo qualcosa in più ho visto che c'è tantissimo movimento di ragazzi serate discoteche in festa casino ad esempio abbiamo visto il centro di gallipoli e ve l'ho fatto vedere anche a voi ed è veramente pieno di gente c'è tantissima gente negozi bar tante creperie souvenir ristoranti eccetera eccetera stiamo facendo tutto questo sentiero ci troviamo a lì do punto della suina lasciate stare i miei capelli perché ieri sono fatta la treccia e ci ha dormito stiamo facendo tutto questo sentiero la nuova Grazie a tutti. Dopo vi faccio vedere anche che cosa abbiamo fatto e apro parentesi e chiudo che noi l'abbiamo fatto per noi stessi, non per tanto va di moda, raccogliere le cose o per fanatismo, no, l'abbiamo fatto per noi stessi, vero Chiara? Sì, no, non sai dopo aver visto il video. Ah, ecco, ci siamo sentite molto meglio. Ecco qua, adesso qua si vede tutto. Allora, insomma, il gesto che abbiamo fatto prima, che non vi ho fatto vedere perché l'abbiamo buttato subito. Ho preso due guanti e un sacco della spazzatura e abbiamo cominciato a pulire tutto il lido e, insomma, le parti più vicine a noi ci siamo allontanate un po' dello schifo che è uscito. Ripeto, io l'ho fatto per me stessa perché io vado al mare e non mi va di vedere tutta la spazzatura che c'è intorno. Insomma, fatelo perché basterebbe quel poco, quell'impegno che dovrebbero mettere tutti quanti e sarebbe tutto più semplice. Invece no, la gente se ne frega perché è maleducata e ignorante. Siamo ritornati da Punta della Suina, abbiamo pranzato a casa e ci siamo riposati, ristorati, mi sono fatta la doccia però, insomma, ho rimesso gli stessi vestiti e anche lo stesso costume. Però adesso andiamo alla spiaggia a Bagliaverde e ho ripreso il sacchettino con i due guanti. Ecco questo, quello che ho preso in tutta questa zona, lì, 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 niente, tutta sporcizia, plastica, pedro. Guarda che bella questa canzone. Guarda, io me lo ricordo da poco, perché soffrivo tanto. Frappè. Questo frappè è molto buono, però la panna toppata, non sapeva di niente, ora stiamo sul lungomare. Ciao amici, buongiorno, noi stiamo andando al mare, mi sono spellata al naso, sono stanchissima. Il bello è che questo letto è magico. Un'altra cosa che mi è piaciuta di Gallipoli è che qui funziona la raccolta differenziata a differenza di noi a Roma. Eccoli qua i bidoni, poi passa il camion la mattina e li prende. Che bello, non c'è nessuno, non ho pace. Chiara saluta. Buongiorno a tutti. Salutate. Ciao. 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 Noi stiamo andando al mare. 3, 2, 1. Ieri sera io e il mio saluto si siamo presi questa collana e questo qui invece. Allora, la pressione dell'acqua è fantastica. Ha un getto fortissimo, cioè già la vedete così. Ed è meravigliosa. Quindi il voto della doccia? 10. Mamma, hai gradito la cena? Fantissimo. Buonissima. Buonissima. L'ho finito tutto. Benissima. Eppure il tiramisù. Non vi piacere perché non siete da...